ragazzi questo video qui è una leggenda perché ecco ecco stavo sbottendo la testa stavo sbottendo la testa e mamma mia è qua e ho veramente andato quella sera lì ma questa è una ragazza in questo video qua che si chiama l'ambulanza ma non per me stavo facendo l'ingresso ma non for me sta fermo lì faccio come un meme ma non per me ma sto fermo lì sto seduto non muoverti più ah beh mi tocca fuorissima dimmi che l'hai registrato dimmelo madonna che beggente posso trovare una constatazione che l'acciaio è più duro io lo stavo guardando più duro della tua testa stavo aspettando questa cosa hai perso qualcosa ma meno male che l'ha preso di un fiato ma lei stava facendo un video e mi ha preso di un fiato ma lei ha fatto un video e mi ha preso di un fiato oh ti giuro è il live vero